Buonasera, buonasera anche dalla TGN. Benvenuti a questa edizione. Arrivato oggi a Linate un altro aereo con a bordo 5 ragazzi ucraini con problemi oncologici. Si tratta del terzo volo di questo tipo nel giro di meno di una settimana. Ci racconta tutto Michele Lanati. A distanza di solo 4 giorni dai primi due voli, atterrati a Milano o Linate, oggi alle ore 14, sempre presso lo scalo milanese, è arrivato un nuovo volo proveniente dalla Polonia. A bordo 5 bambini e ragazzi fra i 3 e i 15 anni, accompagnati dalle rispettive madri ed alcuni fratelli. Sono pazienti che fino a una settimana fa sono stati costretti a rifugiarsi nei sotterranei della Dasha di Soleterre a Kiev e dell'Istituto del Cancro di Kiev. Il volo umanitario è stato eseguito dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, Areu, in collaborazione con la Protezione Civile, Regione Lombardia e Fondazione Soleterre, per effettuare il trasporto di familiari e bambini e contemporaneamente garantire loro l'assistenza medico-sanitaria specializzata durante le ore di viaggio. Insieme ai propri familiari e costantemente assistiti da personale medico-sanitario per garantire loro le cure salvavita, i giovani pazienti hanno percorso più di 2000 km e hanno affrontato lunghe ore di viaggio. Sono bambini che hanno vissuto interminabili giorni di spostamenti tra i reparti in cui erano ricoverati e i bunker o i sotterranei delle strutture ogni qual volta suonava l'allarme antiaereo. Ad accogliere i giovani pazienti il personale sanitario specializzato proveniente dai due ospedali che li prenderanno in cura, ovvero l'Istituto dei Tumori di Milano e gli Ispedali Civili di Brescia, il direttore generale di Areu Alberto Zoli e l'assessore alla Protezione Civile della Regione Lombardia Pietro Foroni. Un impegno della Regione insieme alle reti solidaristiche importanti, un particolare ringraziamento all'Associazione Sulle Terre che permette con i suoi collegamenti questo tipo di operazioni importanti per la salvaguardia di quei piccoli che in una situazione di guerra sono ancora più indifesi degli altri a causa delle loro condizioni sanitarie. E Milano ha cominciato ad accogliere i primi profughi arrivati dall'Ucraina. Palazzo Marino sta predisponendo un piano per fornire assistenza e supporto alle persone in arrivo. Sentiamo a questo proposito l'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, Lamberto Bertolè. Di fronte a questa tragedia, a questa tragedia in mane che stiamo affrontando, ci stiamo attrezzando. Milano vuole fare fino in fondo la sua pace. Sotto il coordinamento della prefettura stiamo organizzando l'accoglienza. Vogliamo privilegiare l'accoglienza diffusa nelle abitazioni, nelle case che generosamente molti cittadini stanno mettendo a disposizione. Abbiamo però anche predisposto dei centri di accoglienza per l'emergenza. Un padiglione intero di casa di Annacce è stato dedicato alle persone che arrivano dall'Ucraina e così i centri di accoglienza straordinaria della prefettura. Ma oltre al tema dell'accoglienza e dell'alloggio c'è il tema della salute. Quindi insieme alla TS ci saranno attività di screening e di risposta alle questioni sanitarie. E poi avremo il tema dell'inserimento scolastico dei bambini su cui lavorare nelle prossime settimane. E poi il tema di sostegno a reddito, sostegno materiale delle famiglie una volta che si stabiliranno qua in Italia per un po' di tempo. Quindi sono tante sfide aperte e giorno dopo giorno cercheremo di implementare la nostra offerta e adeguare la nostra risposta a questi bisogni. Quindi abbiamo sentito la regione Lombardia, abbiamo sentito il Comune di Milano ma c'è anche l'impegno sul territorio della diocesi che è stato portato a livello internazionale. Quello che in questi giorni sta mettendo in campo Caritas Ambrosiana che sottolinea come sempre la grandissima generosità degli ambrosiani. Un dato per tutti, 60 appartamenti messi a disposizione da privati, 45 parrocchie disponibili ad accogliere, decine di locali offerti dalla Curia. Sentiamo Anna Maria Braccini. Un sostegno portato a 360 gradi, dalla disponibilità all'accoglienza diffusa, all'assistenza per i minori non accompagnati, all'orientamento fornito a chi accoglie profughi e poi la raccolta fondi e il coordinamento con le Caritas impegnate sul campo. È l'impegno di Caritas Ambrosiana in questo momento di guerra in Ucraina. L'area straniera, infatti, dell'ente diocesano ha sinora censito, dati aggiornati a ieri ma in costante aumento, la disponibilità nella diocesi di Milano di 60 appartamenti privati, in questo momento vuoti e destinabili all'accoglienza. Spazi utilizzabili presso 45, tra parrocchie, istituti religiosi e associazioni. 930 famiglie disposte ad accogliere nelle proprie case. È la straordinaria generosità di tante persone e comunità, come sottolinea ancora Caritas. Sempre Caritas e le cooperative del suo sistema coordineranno inoltre le accoglienze in alcune decine di alloggi, che la Curia di Milano intende rendere dispotibili, se ve ne sarà necessità, a Villa Sacro Cuore di Triugio. Sul versante dell'orientamento a chi coglie profughi, sono già arrivati tramite canali autonomi e informali, al SAE, Sportello Accoglienza Immigrati, 136 richieste di consulenza, che riguardano 265 persone, tra cui 128 minori non accompagnati. Costante il rapporto con le istituzioni, sia a Milano che negli altri comuni e province, su cui insiste il territorio diocesano, e con enti internazionali. Prosegue inoltre, come detto, la raccolta fondi, avviata già giovenile 24 febbraio, per supportare l'intensa e diffusa azione di aiuto prodotta dalla rete Caritas in Ucraina e nei paesi di confine, e contribuire con gli appelli di emergenza del valore per ora di 5 milioni di euro. Aggiornamenti quotidiani provengono da Caritas Internationalis, Caritas Europa e le Caritas nazionali e locali impegnate sul campo. Questo per quanto riguarda l'accoglienza, ma l'altro problema che riguarda da vicino noi in Italia e in Lombardia è quello del rincaro del gas, il rincaro del grano, e quindi le conseguenze che tutto questo avrà sulle nostre vite. Ad esempio, alcuni comuni in Lombardia hanno deciso di spegnere i lampioni sulle strade e le piste ciclabili, e di ridurre le temperature nelle scuole, questo per far fronte al rincaro dell'energia. Nel Mantovano, ad esempio, la sindaca di Borgo Carbonare di Quistiello. Quistiello, la sindaca si sta organizzando per lo spegnimento e riduzione delle luci considerate non necessarie. Si informa la cittadinanza, questo è quello che è stato detto ai cittadini, che rincari dei costi dell'energia elettrica impongono all'amministrazione comunale di mettere in alto delle misure volte al contenimento delle stesse. Stesse misure nel Lodigiano. Da una settimana, infatti, le luci sulla pista ciclabile tra San Fiorano e Santo Stefano sono spente. Solo per San Fiorano, circa 1.800 abitanti, si stima che i costi energetici lieviteranno per oltre 60.000 euro rispetto all'anno precedente. Una situazione che ha convinto il sindaco a correre ai ripari. Così, oltre ai lampioni che illuminano la ciclabile, sono stati spenti anche i lampioni del parco giochi. Cambiamo argomento. Ora i vaccini, da Alvia da domani, le prenotazioni della quarta dose per i fragili in Lombardia. Sono 190.000 le persone della nostra regione a cui è raccomandata la quarta somministrazione. Vediamo. Via la prenotazione della quarta dose di vaccino anti-Covid per i pazienti con basse difese immunitarie. Da domani questi cittadini potranno fissare un appuntamento sulla piattaforma prenotazionevaccinocovid.regione.lombardia.it con le stesse modalità seguite nelle precedenti fasi della campagna. Gli immunocompromessi potranno ricevere la nuova iniezione ad almeno quattro mesi di distanza dalla terza. Dal primo marzo nel frattempo è iniziata la somministrazione della quarta dose alle persone di età pari o superiore a 12 anni, sottoposte a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria. L'obiettivo è rinforzare le loro difese contro il virus. Nel frattempo i contagi infatti sono in calo, ma il Covid ancora circola e proprio questi pazienti corrono più rischi in caso di positività. Finora avevano due strade per ottenere la nuova dose, essere contattati dagli ospedali che li hanno in cura o recarsi con i documenti relativi al loro stato di salute in uno dei centri vaccinali attivi sul territorio regionale, senza necessità di prenotazione. Da domani per loro si aggiunge la possibilità della prenotazione tramite il portale Lombardo. La platea a cui è raccomandata la quarta dose è formata da 190.000 persone in Lombardia. Tra loro 150.000 hanno ricevuto tre dosi. Solo 25.000 sono già vaccinabili ora con la quarta dose anti-Covid, perché hanno completato il ciclo primario da 120 giorni. Per la nuova somministrazione è previsto l'uso di Pfizer o Moderna, non di Novavax, che viene riservato solo a chi ha più di 18 anni e deve ricevere la prima dose, o a chi dovrà effettuare la seconda dopo la somministrazione di Novavax alla prima. E a proposito di vaccini e di Covid, vediamo come stanno andando i dati in Lombardia. Oggi, come vedete dalla grafica, diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva di uno, mentre sono costanti quelli nei reparti ordinari. A fronte di 82.964 tamponi, ci sono 6.497 positivi, ovvero il 7,8%. È stabile il dato, devo dire, anzi forse in leggera crescita rispetto a ieri. Abbiamo assistito in alcuni giorni della settimana scorsa in cui il dato scendeva, quello della percentuale dei positivi, mentre adesso si è stabilito. Reso stazionario, i decessi sono 9, i contagi a Milano 2.226, di cui a Milano città 1.029. E per quanto riguarda la quarta dose, lo ricordiamo che da domani sarà possibile prenotare sulla piattaforma prenotazionevaccinicovid.regionedelombardia.it la dose booster, appunto, per i cittadini particolarmente fragili. Il primo marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose per i maggiori di 12 anni, sottoposti a trapianto di organo solido. A questo punto queste persone possono ricevere la dose booster nei centri di riferimento delle strutture specialistiche presso le quali hanno già avuto la dose addizionale. Adesso cambiamo argomento. Oggi l'8 marzo, festa della donna. Quest'anno, come tutti gli anni, c'è stata la manifestazione degli studenti che questa mattina anche a Milano si è svolta. Gli slogan erano quasi tutti contro la guerra e a favore della pace e del disarmo. Dal corteo poi si è staccato un gruppo di attivisti che ha imbrattato la filiale Unicredit di via Carducci ed è stata una mattinata di vero caos per il traffico. Sentiamo Alberto Carreras. Un migliaio di studenti stamane a Milano ha dato vita alla manifestazione per l'8 marzo festa internazionale della donna che è partita da Piazza Cairoli. Oltre ai classici valori del femminismo il corteo organizzato dal coordinamento dei collettivi studenteschi vista l'aggressione russa in Ucraina ha assunto quest'anno anche un significato pacifista. A inizio manifestazione un gruppo di studenti è salito sopra una pensilina del trame e ha acceso alcuni fumogeni color arcobaleno come simbolo della pace. La manifestazione ha poi proseguito verso Largo Augusto e i giardini della Guastalla. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in centro con la deviazione di alcune linee di tram e autobus. Alcuni attivisti che si sono separati dal corteo principale hanno imbrattato la filiale di Unicredit in via Carducci e hanno appeso volantini con la scritta lo stupro è un'arma di guerra. I manifestanti hanno scandito slogan contro la banca accusata di finanziare l'industria bellica e di versare denari alla Russia per l'acquisto del gas. Make school not war è questo lo slogan urlato anche in russo dai partecipanti al corteo contro la guerra organizzato dalla Confederazione Unitaria di Base del Movimento Non Una Di Meno sempre nell'ambito della giornata internazionale della donna. I manifestanti, tra cui gli studenti del coordinamento dei collettivi studenteschi hanno scandito slogan contro la guerra in Ucraina e hanno chiesto il disarmo di tutti gli eserciti lo stop alla fabbricazione di armi ma hanno protestato anche contro i tagli all'istruzione pubblica. A proposito della festa della donna ci sono gli auguri anche ovviamente della Presidente della Regione Fontana auguri a tutte le donne innanzitutto a tutte le mamme motore inesauribile della famiglia alle donne che ancora oggi combattono per avere pari diritti nella vita e del lavoro questo è il messaggio del Presidente Fontana in occasione dell'8 marzo ricordiamo che questa sera per celebrare la ricorrenza sia Palazzo Lombardia sia Palazzo Pirelli che sono i due grattacieli sedi della Regione Milano saranno illuminati di giallo colore simbolo della giornata ringraziando tutte le donne che lavorano in ambito sanitario per il loro incomiabile impegno durante la pandemia Fontana rivolge anche un abbraccio affettuoso alle donne ucraine costrette a lasciare la propria terra senza i loro uomini o i loro figli che restano in patria a combattere non vi lasceremo sole queste le parole del governatore Lombardo e in occasione della giornata internazionale della donna ancora a Lograto un piccolo comune Lombardo in provincia di Brescia è stato inaugurato un nuovo giardino dei giusti dedicato alle sorelle Bucci che furono deportate ad Auschwitz scambiate per gemelle furono tenute da parte insieme ad altri bambini cavia per i terribili esperimenti del dottor Mengele riuscirono a sopravvivere ad essere liberate nel gennaio del 1945 e avevano nove anni quando riuscirono a tornare in Italia a loro è stato dedicato il giardino di Lograto dove è stato prenotato un albero simbolico e un cicco commemorativo e oggi è anche la giornata dello sciopero uno sciopero che ha riguardato il servizio del trasporto pubblico nonostante questo il servizio ha continuato regolarmente lungo le linee metropolitane e di superficie nonostante appunto l'agitazione proclamata dai sindacati dei trasporti Cobas Cub USB per la giornata di oggi lo ha comunicato l'ATM attraverso i suoi servizi social l'azienda milanese di trasporti ha comunicato che sono possibili maggiori attese alle fermate di autobus di tram e di filobus e in base a un rapporto scusate quindi questo per quanto riguarda lo sciopero la notizia è arrivata proprio adesso è che il trasporto sta continuando regolarmente e quindi i disagi sono stati davvero pochi cambiamo argomento in base ad un rapporto pubblicato da un gruppo di organizzazioni non governative sull'inquinamento e traffico Milano è terz'ultima su 36 città europee presi in esame per la qualità dell'aria in Italia solo Torino sta facendo peggio vediamo secondo un rapporto pubblicato dalla Clean Cities Campaign un gruppo di organizzazioni non governative che chiedono ai sindaci delle principali città europee una serie di impegni concreti per raggiungere la mobilità e emissioni zero entro il 2030 su 36 città prese in considerazioni Milano nel complesso per inquinamento e traffico si piazza il ventesimo posto ottenendo in un rating che va da A a E una C il capoluogo Lombardo va malissimo per quanto concerne la qualità dell'aria piazzandosi al terz'ultimo posto solo Torino e Cracovia fanno peggio mentre al primo posto c'è Helsinki va meglio per quanto concerne il trasporto pubblico piazzandosi al settimo posto male anche per quanto concerne la sicurezza stradale dei pedoni che la fanno scendere fino alla trentesima posizione nel complesso per la valutazione generale sono state prese in considerazione una serie di parametri fra i quali figurano anche lo spazio urbano dedicato a pedoni e biciclette i livelli di congestione del traffico l'infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici e le politiche attuate per la riduzione del traffico e dei veicoli inquinanti da un soldaggio Ipsos commissionato da Greenpeace che metteva a confronto solo le città italiane è emerso invece che la gestione del traffico e degli ingorghi è il principale problema da risolvere per migliorare la viabilità secondo il 48% degli intervistati un'altra urgenza riguarda la mancanza di parcheggi mentre viene considerato positivamente il numero di aree verdi e la manutenzione di parchi e giardini nel complesso stando a quanto emerge dalla rilevazione i milanesi vogliono una città meno trafficata e inquinata e l'incuria delle strade costituisce uno degli aspetti più critici e urgenti da affrontare anche perché risulta essere il principale disincentivo all'utilizzo della bicicletta approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla casa all'housing sociale Alessandro Mattinzoli gli schemi di convenzione degli interventi sulla qualità dell'abitare sono atti che regolano l'attuazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana approvati nell'ambito del programma innovativo nazionale per la qualità urbana che prevedono interventi edilizi sui servizi abitativi e di misura per il riutilizzo di spazi a uso non residenziale gli schemi di accordo approvati rivestono particolare importanza in quanto parte integrante dell'attuazione del PNRR da cui provengono le risorse economiche che finanziano il programma sul territorio lombardo alle proposte di intervento ammesse a finanziamento sono stati complessivamente destinati dal ministero quasi 67 milioni di euro a Milano andranno 52 milioni per Gratosoglio 2.0 strategie sostenibili per un grande quartiere pubblico e l'arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini ha dialogato sulla figura della futura Beata Armida Barelli nel primo dei tre incontri promossi dall'Università Cattolica del Saprocuore e dall'Istituto Toniolo di cui Monsignor Delpini è presidente in vista della cerimonia di beatificazione prevista in Duomo per il prossimo 30 di aprile sentiamo Anna Maria Braccini io penso che una delle cose che le donne di oggi non fanno più rispetto a quello che facevano che faceva Armida e tutta la sua è che questa capacità di essere una presenza costruttiva corale ecco cioè di essere una presenza che non si limita giustamente come si fa a protestare o a rivendicare ma che si propone ecco dei percorsi e da questa settimana per quanto riguarda la comunicazione dell'attività sull'attività della Chiesa di Milano arriva una novità che riguarda i nostri canali dal lunedì al venerdì dopo questo telegiornale e il meteo sarà trasmessa la Chiesa nella città oggi con approfondimenti e notizie a cura di Anna Maria Braccini questa sera in specifico un servizio ampio sui temi trattati dall'arcivescovo anche in relazione alla festa della donna e a proposito delle novità che riguardano Telenova una novità molto importante riguarda il fatto che da questa sera da oggi Telenova trasmette sul canale 18 del digitale terrestre voi che ci state guardando lo sapete perché appunto ci state ricevendo sul 18 ma se avete familiari o conoscenti che non riescono più a ricevere Telenova avvisateli in modo che possano risintonizzare il televisore quindi va risintonizzato e Telenova si trova sul canale 18 se nonostante la risintonizzazione non dovessero riuscire a trovare il canale allora a questo punto è necessario chiamare un antennista che deve trovare la nuova frequenza sull'antenna del condominio sul canale 34 quindi il primo passo da fare è risintonizzare il televisore se nonostante questo il canale non si trova occorre purtroppo chiamare l'antennista che riuscirà nell'antenna condominiale a trovare appunto il canale 34 dove si trova anche Telenova questo è davvero tutto mi fermo pubblicità poi la chiesa nella città oggi poi il telegiornale sportivo poi serata di calcio oggi Nova Stadio per seguire Liverpool Inter di Champions League arrivederci